Il gran caldo di questi giorni sta portando a molti malori e ricoveri, anche ad incidenti, come nel caso di un 54enne che ha perso la vita al quartiere Aurelio di Roma. L'uomo, a seguito di uno svenimento per il caldo, si è schiantato con la propria auto contro un muro e ha perso la vita. Nell'incidente in via di Casale di San Pio V, all'altezza del civico 120, è rimasta coinvolta solo la Fiat Panda su cui viaggiava Stefano Acquaviva, 54 anni, intorno alle 18 di ieri pomeriggio ha terminato la sua corsa contro un muro a bordo strada. È l'86esima vittima di incidenti da inizio anno tra Roma e provincia. Sul posto sono intervenuti i vigili del XII Gruppo Aurelio e i sanitari del 118 per soccorrere l'uomo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, però Acquaviva è deceduto. Dai primi rilievi della polizia locale sembra che l'uomo, nel tratto di strada tra via Cardinal Pac e via Aurelia Antica, abbia perso il controllo della sua vettura all'improvviso. Non sarebbe stato ostacolato da altre auto o moto che transitavano sulla strada. Per questo l'ipotesi principale è che l'automobilista sia svenuto, forse anche per il gran caldo, mentre era alla guida.